Due vite diverse. Il lavoro tuo ti piace? Mi fa schifo. Si vede. Un incontro. La tua religione non ti può impedire di continuare gli studi. Un amore che supera ogni confine. Ma non ci sta! Hai perso, zì. Vedi che Giulia vuole stare con me. Michele Riondino, Sara Serraiocco. Come chiedete voi? Che da sto mondo è meglio stare a l'arca, no? Mi piace avete tutti i torti. La ragazza del mondo. Dal 9 novembre al cinema. La ragazza del mondo.